ciao a tutti amici collezionisti benvenuti o bentornati nel canale continuiamo anche oggi ad aprire questi giocattolini anzi direi gioiellini di casa z di toys se non fosse per aliexpress che spedisce a casa di cane quello la insomma che conoscete perché guardate qua come mi è arrivata purtroppo spediscono dentro a quelle buste di plastica senza alcuna protezione non ho capito sta cosa se vuoi risparmiare ok mettici almeno i coprispicoli ok almeno copri gli angoli che sono quelli poi alla fine soggetti a questo tipo di urti e a te non ti cambia nulla nella spedizione maledetti maledetti perché queste confezioni sarebbero fantastiche se t'arrivassero integre perché come abbiamo visto già in alcuni video precedenti che ho fatto questa casa eccelle per la qualità a basso costo cioè riesce a mantenere dei costi molto bassi pur regalando c'è una qualità incredibile dei loro prodotti allora io avevo già la marche 3 ho preso anche questa che include il case diciamo qui no il cabinato dove ci va all'interno la marche ma adesso lo vediamo inutile che stiamo a parlare vedete poi tutti insieme vanno a formare questo splendido diorama questi arrivano fino alla mark 7 questi cabinati che se non sbaglio si dovrebbero anche illuminare insomma sono abbastanza fighi vedete c'è le scatole sono fantastiche guardate che effetto metallico anche che c'è sulla scatola scatola è neanche cartone mdf spesso cioè si vede da qua che a momenti è legno anziché cartone quindi la qualità c'è e poi ti arrivano così mo devono arrivarmi altre me ne devono arrivare altre due sai le madonne ti arrivano vabbè allora questo si apre così ok qui c'è questa figata di plexiglass con iron man serigrafato questo è veramente una cosa fantastica qui c'è una pellicola che va tolta e poi lo vediamo meglio davanti e dietro una pellicola di protezione e dunque pezzo di polistirolo abbiamo il nostro avventi ramoglio tiramolo fuori questo questa per adesso non ci serve più abbiamo la nostra figure dietro dovrebbero esserci gli accessori eccoli qua diamo fuori tutto diamo un'occhiata velocemente all'interno vedete com'è fatta bene ottima plastica devo dire molto spessa non è una plastica caccia veramente molto molto buona chissà se ci sono le batterie perché sennò non posso neanche farve la vita qui c'è la ricarica attraverso usb ottimo vediamo se si accende dove sta l'interruttore dove sta chi lo sa ecco ma è così si accende date che figata all'interno ovviamente ci sono questi riflessi azzurri fantastici quindi quando si accendono le luci sembra tutto azzurro ottimo direi ok poi questi sono gli accessori abbiamo la basetta col display stand le varie molle agganci e quant'altro per metterlo in tutte le cose che vogliamo abbiamo due effetti del reattore abbiamo uno due tre paia di mani queste per ospitare i reattori e quest'altre con il reattore diciamo spento ok diamo un'occhiata al nostro iron man vediamo se c'è qualche difetto qui ovviamente ragazzi non vi aspettate il controllo qualità perché qualche segnettino anche se ne ho trovati pochissimi finora e ne ho prese già diverse di queste marche però potrebbero capitare ma dopo tutto sono delle figure molto molto economiche è tutta plastica ma guardate qua se non vi sembra metallo questa se non la tocchi sembra di metallo per quanto è verniciata bene l'effetto è veramente bello 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 questa devo dire che così a guardarla velocemente mi sembra anche pulita non ha nessun tipo di difetto di colore ok le articolazioni ci sono tutte diciamo che un po tipo una marvel legends a livello di articolazioni resta ruota dovrebbe guardare un pelino anche in alto eccolo sì diciamo che forse la posa di volo non è così resa bene dalla testa però comunque un pelino in alto ci guarda poi gira qui ci sono le spalline che potete muoverle le braccia hanno questa ottima soluzione che riescono a venire fuori un pelino quindi ad ottenere anche la farfalla qui vedete per poi rimetterle all'interno c'è la rotazione al bicipite la doppia articolazione qui al gomito che piega anche decisamente bene e su perno abbiamo la mano qui abbiamo il busto che è molto ben articolato grazie a un ball joint anche se non vi potete spingere troppo oltre se no poi si forma questo gap qui abbastanza importante anche dietro vedete le gambe anche vengono in giù vedete questa articolazione a slitta che quindi poi vi consente di poterle orientare di più vedete anche fuori poi qui c'è l'articolazione alla coscia questa è sempre dura quindi qui vi consiglio di staccare la gamba in questo modo tenere questa parte e sbloccarla in questo modo non rischiate di spezzare questo perno qui perché se fate forza quando la gamba è fissata sul perno quindi se andate a fare di questo quando la gamba è fissata ed è dura si potrebbe spezzare il perno del bacino sono tutte così queste gambe non ho capito perché non ce n'è una che vada bene cioè nella coppia ce n'è sempre una che è incastrata questa infatti va bene poi abbiamo la doppia articolazione qui al ginocchio i piedi su e giù e piegano un pelino alla caviglia quindi dai diciamo che le articolazioni sono abbastanza buone allora vediamo un attimino di metterlo all'interno di questa cabina poi è chiaro che qui bisogna perderci un po' di tempo perché ci sta abbastanza preciso quindi bisogna trovare anche la stabilità ora ce lo mettiamo un po' così come viene dai ok poi prendiamo questo che è la chicca direi assoluta guardate qua si vede tutto il personaggio in questo stile computerizzato no togliamo questa pellicola qui davanti non so se ce n'è un'altra forse no è proprio così rimane opaco e no qui c'è l'adesivo forse no forse c'è solo l'adesivo allora da togliere probabilmente poi con la luce si accenderà anche questo pannello e cacchio però sono così convinto che qui c'è qualche altra pellicola e se c'è l'hanno messa proprio rasa rasa eccola infatti si sembrava strano che sta a fare non si toglieva eccola e infatti vedete com'è bello trasparente eccola qua quindi che figata cioè veramente una figata ragazzi come va questo così no così e questo di fatto non è che abbia un incastro vero e proprio è perché si mette così vediamo un po' se prima sotto sopra qui è liscio qui invece ha un incavo eccolo ma che figata assurda guardate qua anche allineato con l'armatura accendiamo oh è figata ragazzi e poi qui ci sono anche luci abbastanza sparate nella stanza vediamo se ne spengo una ecco guardate che figata no è fantastico è fantastico e questi tocca prenderli tutti devono arrivarmi altre altre due marche con questa con questo cabinato ma le sette le prime sette le devo prendere tutte mamma mia che figata guardate che roba ma poi a vederlo dal vivo è ancora più bello cioè non si vede qui dallo smartphone ma io vedo tutt'altra cosa da quello che vedete voi perché? perché vedo questa parte molto scura quasi buia quindi queste queste parti qui esterne ma lui cioè le righe con cui è fatto Iron Man sono di un blu elettrico acceso cioè mi dispiace veramente un casino che non ecco forse se ve lo avvicino un pelino ma non più di tanto perché rimane comunque troppo chiaro invece qui c'è uno stacco bellissimo dal nero dal buio all'illuminazione che viene creata dall'armatura stessa eccezionale ragazzi eccezionale questi li trovate su Aliexpress su Show Z non li ho trovati che se no vi avrei lasciato il link li trovate su Aliexpress costano 50 50 euro forse sì perché l'armatura sola viene intorno ai 25 euro e con il cabinato stiamo sui 50 circa 48 però dai li vale tutti li vale tutti perché è veramente veramente una gran figata ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate se vi è piaciuto il video lasciate un pollicione in su iscrivetevi al canale attivate la campanella e tutte le cose del caso noi ci vediamo alla prossima io vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino alla fine del video un saluto a tutti da Emiliano grazie a tutti